L'idea di sviluppare un'area rurale è dare un'inversione di ruta, perché l'idea è di creare un nuovo modello economico che si basa sulla valorizzazione di quello che ha in un'area. E guardando come si parlava oggi nel convegno dell'intelligenza territoriale, se si guarda che ha un territorio, ti dà capire che ha molti attrattori e hai che conectarlo. Quindi una ruta, una via, una road, però hai che fare la green, perché green? Perché questo è il vero cambio, abbiamo che fare un mondo differente. Se noi non facciamo nulla, tutto si va a quedar così. Quindi questo fu il impulso che portò un gruppo di imprenditori a dire che noi abbiamo che fare una ruta verde, una green road, un'area di sviluppare dove tutto si deve cambiare. Lo che prima si usava per fare zootecnica, può essere che ora non è più sostenibile, si hanno trasformato in hotelli, anche con 5 estrellas e con un spa, quindi con tutto il tratamento che ora si necessita per un hotel. Quindi lo che è la tradizione di un luogo, quindi la construzione che ha già esistito, ma con innovazione, perché ora si ha cambiato. Quindi sono tutti questi concepti che stanno tratando di ponerlo in un progetto di area, perché l'altro concepto ben importante è che non si vende più un singolo servizio, ma si vende un'area territoriale. Il marketing, bene, lo stiamo lavorando junto, questa è la cosa più importante, ne aggiungiamo tutto, lo empresario, lo pubblico, il governo dell'area, per fare azioni di mercato, quindi questo è il programma, si se planifica e si facendo le azioni, che sono, claro, di partecipare a ferie, ma anche di creare eventi in questa ruta. Il primo degrado è culturali, quindi cominciamo con le culturazioni, con eventi che attraggiano un turismo di cultura, perché questo è il target che noi vogliamo, quindi presentazione di libri, encuentri letterali, quindi poi tutto tipo di arti, grandi concierti, grandi eventi teatrali, quindi noi rinforziamo più nel asunto dell'arte e dei eventi, perché questo attrae, la persona in un luogo, e poi, chiaro, ancora partecipare a ferie, lo stesso che sempre si fa, però io penso che la novità è tratare di rinforzarsi sulle culturazioni locali e la cultura più artistica. Grazie. 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 Grazie.